ultima del molly box di oggi prima di salutarvi vorrei salutare io una persona non lo faccio mai in questo caso mi ha mandato un video molto figo posso dirlo sono testimone che metterò nelle prossime ore sulla mia pagina facebook lui l'ha rinominato praticamente terminator molly terminator ma è bello saluto il mio amico angelo j e lo saluto poi chiaramente lo vedrete lì qui video www.angeloj.net